Amici, buongiorno, bentornati, benvenuti a tutti coloro che si sintonizzano per la prima volta sul canale, grazie a tutti i nuovi iscritti e a coloro che ci seguono con dedizione e continuità. Oggi ho il piacere di ospitare nuovamente l'amico Andrea Cionci per un aggiornamento sulla sua inchiesta, un aggiornamento molto importante perché riguarda un atto concreto che è stato depositato, di cui ci parlerà estesamente tra pochissimo. Quindi saluto e ringrazio per la presenza Andrea Cionci. Grazie Barbara, buongiorno a tutti, grazie a te sempre per la cortesissima ospitalità. Oggi facciamo appunto un aggiornamento partendo subito da un'istanza che è stata da te presentata il 6 giugno con l'ausilio ovviamente di un pool di legali al Tribunale Vaticano e che dovrebbe avere una risposta entro breve tempo, mi pare che ci sia un mese di tempo. Ecco, questa istanza è per il riconoscimento della nullità dell'abricazione di Benedetto XVI e quindi è un atto che dovrebbe piacere e far piacere a chiunque ha osservato in questi ultimi undici anni questo travaglio all'interno della Chiesa Cattolica. Raccontaci appunto di questa istanza, qual è lo scopo, da dove nasce naturalmente per chi non l'avesse seguito tutto il tuo lavoro, mi sembra strano, però tutto il tuo lavoro si concentra in pratica in questo atto concreto e ufficiale. Sì, grazie Barbara, hai detto molto bene. Questo documento che ho presentato al Tribunale il giorno 6 giugno scorso dovrebbe far piacere a tutti perché sono undici anni che si dibatte sulle dimissioni di Papa Benedetto e questo dibattito non è mai stato chiarito ufficialmente dalla Chiesa ma dei preti che hanno messo in discussione l'abdicazione di Papa Benedetto sono stati sospesi, scomunicati, ridotti allo stato laicale, insomma gente che ha perso lo stipendio e finita sull'astrico. Ci sono poi vescovi che sono stati perseguitati in vario modo, tolti dalle dioci. Insomma, siamo in presenza di comportamenti che ben poco hanno a che fare con quelli di un Papa. Quindi uno, la prima cosa che si chiede dovrebbe essere ma questo è veramente un Papa, scusate, perché da quello che sembra, tra l'altro per tutte le eresie e le inversioni dottrinali, sembrerebbe proprio che questo non sia. Allora uno va a controllare i documenti, controlla l'abdicazione di Papa Benedetto e guarda caso scopre che non è un'abdicazione a norma perché c'è il canone 332.2 che dice che il Papa deve rinunciare al monus petrino cioè l'investitura di Papa, l'investitura di pontefice che deriva direttamente da Dio stesso. Papa Benedetto invece ha dichiarato di rinunciare al ministerium che è il potere pratico. Allora c'è un solo caso possibile in cui il Papa perde il potere pratico, il potere di fare il Papa ma mantiene il monus petrino, mantiene il titolo l'essere Papa ed è il caso della sede impedita, cioè quando il Papa è prigioniero, confinato, esiliato, non libero di comunicare. Questo è un dato oggettivo, è un dato evidente, no? Però ci voleva qualcuno che si applicasse sulla questione e che facesse tradurre la dichiarazione di Papa Benedetto da lui scritta e pronunciata in latino che, come sappiamo dalle testimonianze di Monsignor Genswain e di Peter Seval, il suo biografo, è stata manipolata. Il segretario di Stato Bertone e Monsignor Giampiero Gloder hanno applicato delle precisazioni giuridiche, non meglio specificate. E infatti vediamo che questa declaratio, nelle traduzioni inglese, francese, spagnolo, portoghese e polacco appiattisce il monus e il ministerium rendendoli con la stessa parola ministero, ministri, minister, ministerio, eccetera. Mentre ci sarebbe una parola per dire monus, cioè ufficio, office, ufficio e una parola per dire ministerium, appunto servizio, minister, ministerium, eccetera. In tedesco c'è invece la corretta traduzione di monus e ministerium, monus amt, ministerium, di inst, però che hanno fatto i furboni e li hanno scambiati di posto. Cioè Papa Benedetto dice Le mie forze non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il monus, amt, dichiaro di rinunciare al ministerium di inst, così doveva essere. E invece se controllate sul sito Vaticano li hanno scambiati di posto. Le mie forze non sono più adatte per esercitare il ministerium di inst, pertanto dichiaro di rinunciare al monus amt. In questo caso la declaratio sarebbe un'abdicazione valida, perché lui rinuncia al monus amt, peccato che non ci sia alcuna corrispondenza con l'originale latino. Ecco, quindi questo dimostra esattamente che i nemici di Papa Benedetto sapevano perfettamente come lui fosse non abdicatario, ma impedito, e ugualmente hanno cercato di confondere le carte. Tutte queste cose sono state da me presentate al Tribunale Vaticano. Ecco, ci sono i miei nemici che dicono Ah, John ci ha scritto il romanzo a Laden Brown, solo perché l'ho intitolato Codice Ratzinger. Perché Codice Ratzinger? Perché Benedetto, per farci capire questa realtà, si esprime con un codice di comunicazione sottile, che si chiama restrizione mentale larga, peraltro, è un concetto della teologia morale, e fa riferimento al codice di diritto canonico. Quindi, Codice Ratzinger è un titolo perfettamente appropriato. Ora, se fosse un romanzetto, andare a depositare in tribunale un romanzetto sarebbe piuttosto stupido, no? Sarebbe piuttosto rischioso. Che ne pensi, Barbara? No, no, infatti, una cosa, fra l'altro, che questa istanza potrebbe dirimere una volta per tutte, è il fatto che Papa Benedetto XVI fece una dichiarazione dicendo che la faceva in piena libertà, in piena coscienza, ma dopo questa dichiarazione davanti a un concistoro, quindi neanche in Piazza San Pietro all'Angelus davanti ai fedeli, ma ad un ristretto numero di persone, non seguì poi un atto ufficiale firmato con il sigillo di Ceralacca, non c'è niente di questo tipo, se non sbaglio. Certo, hai perfettamente ragione, perché appunto una sede impedita si può solo annunciare, ma non è che c'è un modulo per la sede impedita, è come se io vi dicessi, sapete, dal 30 luglio mi metteranno in galera, mi rapiranno, mi sequestreranno. Io faccio questo annuncio, ma poi se mi rapiscono non è che c'è il modulo del rapimento, no? Divenza fattuale. E infatti il 28 febbraio, anzi, diciamo dal primo marzo, perché c'è tutta la questione dell'ora vigesima che vi invito ad approfondire per conto vostro sul mio canale YouTube Andrea Cionci, Codice Ratzinger. Papa Benedetto dice che questa sua rinuncia al ministerium entrerà in vigore dalle 13 del primo marzo. Chiaramente è una interpretazione dell'ora vigesima secondo l'antico orario pontificio. E quindi l'ora fra le 13 e le 14 del primo marzo sono in effetti, guarda caso, la prima ora dopo l'ora fra le 12 e le 13, ora solita in cui viene diffuso il bollettino pontificio. Il venerdì primo marzo alle 12 e 20 il cardinale decano Angelo Sodano diffonde il bollettino con cui convoca il nuovo conclave abusivo, illegittimo, perché convocato a Papa non morto e non abdicatario. Non abdicatario perché non rinunciatario al monus petrino. Quindi tutto torna in modo millimetrico per chi ha avuto la pazienza di approfondire la questione. Ora, la mia istanza è divisa in tre sezioni. La prima sezione, come notavi giustamente poco fa, dimostra l'inesistenza della declaratio come atto di abdicazione, cioè è solo una dichiarazione senza numero di protocollo, mai ratificata, mai firmata, eccetera. La seconda sezione presuppone l'idea teorica che questa declaratio possa essere considerata un atto canonico. Bene, è nulla invalida per errore sostanziale. Le canone 188 La rinuncia fatta per errore sostanziale è nulla invalida. Che vuol dire errore sostanziale? Che manca proprio l'oggetto a cui il Papa deve rinunciare. Cioè manca il monus. Se Papa Benedetto scrive rinuncio a prendere lo zucchero dopo il caffè, manca l'oggetto a cui deve rinunciare per abdicare. Ha rinunciato a un'altra cosa. Quindi c'è un errore di sostanza che rende la rinuncia nulla e invalida. Tant'è che ci sono perfino dei tradizionalisti che su questo oggettivo errore sostanziale hanno dato una spiegazione completamente surreale. Dici, ma allora perché Papa Benedetto ha fatto questo errore? Eh beh, perché lui era eretico, era modernista e quindi voleva fare un doppio papato modernista con un Papa pensionato e un Papa invece attivo cosa impossibile perché lui era appunto aveva delle idee tutte sue. Ora, se così fosse, Papa Benedetto nel corso dei nove anni successivi avrebbe spiegato tranquillamente dicendo no, guardate, c'è un Papa in pensione sono io, c'ho solo il monus e poi c'è un Papa attivo che ha sia il monus che il ministerium esattamente come avviene per il Vescovo. Il Vescovo quando va in pensione a 75 anni diventa emerito. Perde il ministerium perde il potere pratico il potere di fare il Vescovo ma mantiene il titolo mantiene l'essere Vescovo. Arriva un Vescovo più giovane che ha sia il monus che il ministerium della diocesi. Quindi abbiamo due Vescovi tutti e due col monus uno in pensione senza ministerium uno attivo col ministerium. Questo può succedere per il caso del Vescovo perché il monus del Vescovo è un sacramento è un sacramento e come tale indelebile. Il monus del Papa invece non è un sacramento tanto che il Vescovo viene ordinato e il Papa viene eletto. Il monus del Papa è solo un ufficio un incarico di giurisdizione. Come tale questo incarico è unico non lo si può mai sdoppiare. Allora perché Papa Benedetto definisce se stesso Papa in merito? Perché anche lui come il Vescovo ha perso il ministerium e ha trattenuto il monus ma non in modo regolare canonico per raggiunta età pensionabile bensì per sede impedita. Allora qualcuno si spazientirà e dirà ma perché tutte queste complicazioni perché Papa Benedetto non lo ha detto chiaramente proprio perché era in sede impedita. dove il Papa, il Vescovo non è libero di comunicare liberamente proprio perché confinato, prigioniero non libero di esprimersi nemmeno per lettera. Spero di essere riuscito a sintetizzare. Certo. No perché c'è anche chi dice sì però dopo tutto Benedetto XVI era libero in fondo di comunicare perché non era chiuso nella cella di Cagliostro senza a pane e acqua e senza possibilità di comunicazione con l'esterno. C'è una differenza cioè lui come dice anche Bergoglio nella sua biografia insomma nel suo libro con Javier Martinez Brocal è il successore dice lui non ha mai interferito non mi ha mai detto e lo credo è quello che non potesse uscire il poverino in giardino a farsi le sue passeggiate con i suoi gatti lui era di fatto non poteva più mettere bocca questo anche prima di dimettersi perché lui diceva la mia autorità finisce si ferma fuori dalla porta sì lui già durante il suo pontificato aveva degli enormi problemi di autorità nel senso che lui ordinava ma gli altri i suoi subordinati facevano tutto quello che gli pareva ma questo impedimento diventa effettivo fattuale dalla sua detronizzazione cioè dalla convocazione di un conclave illegittimo immaginate un papa regnante i cardinali pigliano e partono e indicano un nuovo conclave questo è un colpo di stato è un vero e proprio colpo di stato il papa è stato buttato fuori detronizzato imprigionato confinato esiliato una cosa terribile una cosa terribile ora chi mi fa queste obiezioni tipo Radaelli ha una visione caricaturale della sede impedita per cui il papa deve essere chiuso in miniera deve essere chiuso in una celletta di due metri per due sotto il livello del mare è una visione appunto vignettistica perché ricordiamo se c'era uno chiuso in uno stanzino era per esempio Aldomoro il quale comunque poteva scrivere le lettere perché ne scrissi 86 dalla sua prigionia ovviamente queste lettere venivano censurate e controllate dai suoi impeditori ovvio ma anche Napoleone Bonaparte confinato a Sant'Elena aveva tutta un'isola da girare per passeggiare per andare a cavallo poteva ricevere persone scrivere le sue memorie scrivere lettere eccetera eccetera e naturalmente era controllato era tutto controllato quindi l'impedimento deriva dal fatto che il papa non può più governare sfido chiunque a trovare un solo atto di governo di Benedetto XVI dal 2013 fino al 2022 nella data della sua morte è la sede che è impedita il papato è impedito il papa è stato buttato fuori c'è stata un'usurpazione il papa non può più governare si è ritirato in una vita spirituale dove continua a fare il papa in modo solo spirituale cioè soffrendo e pregando lo dice lui stesso nella declarazione lui dice sono ben consapevole che questo munus deve essere esercitato non solo con le opere e le parole cioè in modo pratico ma non meno soffrendo e pregando ecco lui in sede impedita ha continuato a fare il papa soffrendo e pregando esattamente perché era in sede impedita vogliamo proibire a un papa impedito di soffrire e pregare no quello non glielo potete impedire no quindi mi sembra evidente il tutto come lui disse anche nell'ultimo discorso tenuto prima appunto dell'entrata in sede impedita lui disse io rimango in maniera diversa non scendo dalla croce ma resto proprio in modo diverso al mio posto quindi anche questa è un'affermazione abbastanza strana perché lui non ha detto no io da questo momento non non faccio niente che mi possa ricondurre alla figura del pontefice lui ha detto rimango in modo diverso e come in modo diverso rimango impedito nella croce rimango sempre papa ma rimango impedito tra l'altro possiamo ricordare anche quando lui disse rispondendo a tornielli che gli chiedeva come mai ha mantenuto il nome pontificale la veste bianca e al momento della rinuncia non avevo altri abiti disponibili comunque porto la veste in modo chiaramente distinto da quella del papa qual è la risposta ora non è è ovvio che è una battuta credere che non ci fosse nessun sarto ecclesiastico che in 17 giorni dall'11 febbraio al 28 non gli potesse noleggiare una talare nera da vescovo o da cardinale no? è ridicolo semplicemente ridicolo perché dice questo? perché non è che c'è la talare verde da papa impedito la talare gialla da papa confinato esiliato detronizzato no quindi siccome lui è sempre rimasto papa la cosa più pratica era mantenere il nome e la stessa veste però che cosa ho fatto? ho tolto la mozzetta la mantellina e la fascia alla vita proprio per distinguermi dal papa normale dal papa classico tradizionale e farvi capire che sono appunto impedito mozzetta rossa che non ha messo neanche l'altro no anche la mozzetta bianca lui ha tolto proprio la mozzetta bianca non solo la mozzetta rossa quindi c'è un codice un dress code come si direbbe che è anche molto rivelatore se vogliamo assolutamente assolutamente ma papa benedetto ci fa capire perfettamente anche da un punto di vista simbolico tant'è che svela il professore Andrea Riccardi che ricevette da monsignor Gensva in questa confidenza cioè che papa benedetto si era tolto la mantelletta e la e la fascia alla vita per significare la perdita della potestà esattamente per questo ora in questo c'è anche un significato spirituale perché il canonista Don Stefano Violi già nel 2013 nell'interregno fra papa e antipapa aveva eccepito su una rivista teologica di Lugano la mancata rinuncia al monos petrino a norma del canone 332 allora che cosa dice Don Stefano Violi dice esattamente come nostro signore la rinuncia di papa benedetto costituisce un deporre le vesti ecco aspettate che ve lo leggo bene perché sono due righe ma molto esemplificative lui prima dice che c'è questa mancata rinuncia al monos allora come la spiega dice con questo gesto benedetto ha incarnato anzi la forma più elevata del potere nella chiesa sull'esempio di colui cioè il Cristo che avendo tutto il potere nelle sue mani depose le vesti non dismettendo in questo modo ma portando a compimento il suo ufficio al servizio degli uomini cioè la nostra salvezza infatti il Cristo rinuncia a usare tutto il suo potere non è che ha fulminato con lo sguardo i legionari gli ebrei i farisei eccetera si è fatto mettere in croce come un comune mortale rinuncia a usare il suo potere allo stesso modo Papa Benedetto rinuncia a usare il suo potere ma così come Cristo tra virgolette aveva bisogno di qualcuno che lo tradisse qualcuno che lo flagellasse che lo mettesse in prigione che lo inchiodasse a una croce perché certo non poteva inchiodarsi da solo alla croce sarebbe stato assurdo allo stesso modo Papa Benedetto aveva bisogno di un conclave abusivo che lo detronizzasse e lo ponesse in sede impedita quindi lui ripercorre precisamente le stesse orme di Gesù con la sua declaratio dice qualcuno di voi mi tradirà agli apostoli cioè i cardinali riuniti in concistoro c'è un Giuda che gli dà perfino un bacio perché si avvicina il cardinale Sodano e gli dà proprio un bacio viene messo in prigione viene anche flagellato perché lo perseguiteranno anche mentre era in prigione muore e adesso deve risorgere come con un corpo glorioso canonico per così dire cioè il Papa che si considerava morto abdicatario rinunciatario torna con un corpo glorioso canonico come l'ultimo vero Papa e appunto questo riconoscimento da parte della Chiesa spazzerà via il mistero di iniquità tornando al discorso di questo presunto attentato alla sua alla sua vita che tu hai descritto in diversi podcast rievocando un episodio avvenuto durante il viaggio in America Latina Messico Cuba nel 2012 un anno prima della rinuncia ecco lì c'è una versione contrastante di un Papa Benedetto che soffre di insonnia prende dei farmaci psicofarmaci ovviamente benzodiazepino o ipnotici di altro tipo però improvvisamente ha un episodio durante questo viaggio in cui ha un malore si sente male e ci sono le immagini che tu hai mostrato del giorno dopo in cui lui appare chiaramente ossedato o comunque non pienamente lucido mentre il giorno prima era perfettamente in forma e in sé ecco questo incidente errore oppure mano che ha variato il dosaggio di questi farmaci a sua insaputa di Benedetto XVI può avere condizionato in un certo senso la sua libera scelta di mettersi da parte perché è chiaro che se uno viene minacciato viene intimidito con un atto di questo tipo ti cambio il dosaggio dei farmaci e tu rischi veramente di andare in overdose questo può anche rappresentare una coercizione certamente certamente tra l'altro il canone 188 aggiunge che la rinuncia fatta per timore grave ingiustamente incusso dolo o errore sostanziale è nulla invalida quindi c'è anche questo elemento a rendere ulteriormente nulla invalida la rinuncia di Papa Benedetto anche se fosse stata perfettamente a norma del canone 332 ci tengo a specificare una cosa Barbara Papa Benedetto stesso scagiona i suoi medici personali perché afferma che il suo medico personale fin dall'inizio gli dava dei sonniferi ma ristretti nei limiti tant'è che dopo un po' non gli fanno più effetto e anche il suo nuovo medico personale dopo questo episodio in cui lui dice mi sono svegliato la mattina dopo la prima notte a Santiago di Cuba e come al solito ho usato il mio fazzoletto e mi sono accorto che era completamente intriso di sangue devo aver urtato qualcosa in bagno ed essere caduto quindi visto che non si ricorda che cosa è successo amnesia e caduta sono chiari segni di un sovradosaggio ma non da parte dei suoi medici personali ma da parte di qualche malintenzionato che nel pomeriggio nella mattina del 26 riesce a propinargli degli altri farmaci che in combinazione con la dose che lui stesso si prendeva tutte le sere lo mandano in overdose e appunto come ricordavi c'è il video del giorno dopo che evidenzia proprio il fatto che lui fosse ancora sotto l'effetto di questi questi farmaci di questi sedativi mi è stato messo nero su bianco da uno psichiatra si dice si vede con certezza che Papa Benedetto è ancora sottoposto all'effetto di questi farmaci e stringe il cuore vederlo perché il giorno prima il 26 mattina era fresco come una rosa il 27 sembra un cadavere ambulante lo devono perfino aiutare ad accendere un cero guidandogli la mano questo fatto come ricordavi è corroborato dalle versioni diverse completamente divergenti che circolano su questo episodio tant'è che nel 2013 Andrea Tornielli già vaticanista della stampa scrisse un articolo raccontando un resoconto di un prelato che aveva seguito Benedetto a Cuba allora abbiamo tre versioni diverse perché poi anche Monsignor Genswain nel suo libro Nient'altro che la verità appositamente credo io proprio apposta da una terza versione che che parla di tutt'altro questo perché chiaramente per attirare attenzione i magistrati sull'episodio allora il predato di Tornielli dice che questo episodio si è verificato in Messico tra il 24 e il 25 mentre Papa Benedetto parla della notte tra 26 e 27 a Santiago di Cuba secondo Tornielli e Genswain la lesione è sulla testa sotto la papalina mentre Papa Benedetto dice che ha trovato il fazzoletto intriso di sangue il prelato di Tornielli dice che urta il lavandino mentre Genswain dice che urta sul piatto doccia poi la cosa più assurda è che Tornielli dice che non ci sono bisogno di punti non c'è bisogno di punti né di tampone o di garza mentre Genswain dice che non solo gli mettono i punti ma questi punti non riuscivano ad arrestare il sangue e gli mettono pure una garza sotto la papalina tant'è che durante la messa non gli hanno tolto la papalina al momento della consagrazione proprio per non svelare questo tampone di garza io ho trovato il filmato di quella manifestazione di quella messa gli tolgono regolarmente la papalina e la sua testa è perfettamente integra non ha nessun cerotto nessuna garza nessun tampone quindi è chiaro che Genswain scrivendo in questo libro questa ricostruzione così ardita facilmente sbugiardabile ci vuole proprio condurre a questo ci vuole proprio condurre a rivolgerci al tribunale cosa che noi abbiamo fatto ora se il tribunale dovesse rigettare l'istanza sarà un'ammissione di colpa patente da parte di Bergoglio è ovvio no? c'è uno che sta non solo uno ma insomma tante persone che stanno facendo un baccano che non finisce più da undici anni per dire che Bergoglio non è il Papa perché Benedetto non è abdicatario parlano addirittura di un attentato depositano un atto e che fai? non rispondi e beh se non rispondi vuol dire che Bergoglio non è il Papa è ovvio cioè è la manifestazione più evidente no? ma a proposito di Genswain è interessante anche quello che lui ha raccontato in un in un incontro o in a Sardegna o in un video interessantissimo racconto dell'uomo che è stato per tanti anni il suo segretario di Benedetto XVI è stato come tu lo definisci il suo più fedele collaboratore lui dice racconta quando fu convocato da da Papa Benedetto XVI con molta serietà il Papa gli disse si sieda perché le devo dire una cosa importante e Genswain racconta che Benedetto gli raccontò che lui avrebbe dovuto rinunciare e Genswain dice io dissi a sua insentità non è possibile non lo può fare ecco anche questa è una cosa abbastanza incredibile evidentemente Monsignor Genswain conosceva il codice era canonista quindi non poteva non sapere che una rinuncia sì esattamente come dici perché Papa Benedetto gli ha detto guardi io mi voglio dimettere dal ministerium e allora Genswain gli risponde ma no guardi santo padre non è possibile è certo che non è possibile perché il Papa non può rinunciare da solo al ministerium ha bisogno di una convocazione di un conclave abusivo di un colpo di stato bisogno di un atto di violenza per così dire sul suo potere per potervi rinunciare quindi aveva perfettamente ragione è chiaro che Genswain trasferisce questa sua risposta come se fosse ma no dai non è possibile non subia ci ripensi non può fare una cosa del genere poi ci rimaniamo male invece lui da canonista dice guardi lei non può rinunciare al ministerium trattenendo il mucus infatti era vero e Benedetto gli risponde pare che è una decisione già presa naturalmente questa risposta è stata passata come la risposta inflessibile del granitico benedetto che arcigno teologo tedesco come lo dipingeva Flore Starcais non vuole rescedere dalle sue decisioni in realtà lui dice è una decisione già presa da altri è una decisione presa cioè io mi perderò comunque questo ministerium perché quelli convocheranno un conclave a prescindere cioè è una cosa spaventosa ma una cosa che mi mi ha sempre lasciato perplessa di questa vicenda se noi guardiamo la vicenda dal punto di vista di un Papa visto come capo di uno Stato lo Stato Vaticano i colpi di Stato esistono sono sempre esistiti in tutti in tutti gli Stati perché lo Stato Vaticano dovrebbe essere un'eccezione in questo senso certo diciamo che l'eccezione in questo caso è nel fatto che Papa Benedetto non si è lamentato per così dire probabilmente non si è potuto lamentare proprio perché rimaneva nelle mani del suo impeditore ma il suo obiettivo qual era? il suo obiettivo era quello di farlo capire in modo da selezionare una nuova una nuova classe di cattolici cioè quando lui dice il Papa è uno solo e non spiega quale sta selezionando i cattolici perché gli altri ah il romanzo da den Brown questo fariseismo sta diventando qualcosa di preternaturale e di patologico e la cosa più vergognosa di tutti è che ho capito che c'è un civista antipatico d'accordo ma qui c'è in valo la sopravvivenza della chiesa cattolica non so se mi spiego ecco e quindi a maggior ragione di fronte a questa incertezza che dura dal 2013 per cui nessuno ha mai parlato chiaramente perché né Bergoglio né Benedetto XVI fin tanto che era vivo ha mai detto no guardate state tranquilli girano delle voci girano delle strane teorie per cui io non avrei state tranquilli che non è niente di vero invece ci sarà un motivo per cui nessuno di loro ha parlato chiaramente e ha cercato di cancellare questi dubbi quindi adesso che c'è un atto presentato al tribunale un'istanza alla quale è obbligatorio rispondere in qualche modo dovrebbero essere tutti contenti di finalmente avere il modo di conoscere la verità quella che ufficialmente può essere rivelata ma invece no non sono contenti perché adesso se niente niente c'è ragione loro hanno chiuso hanno hanno bruciato la loro reputazione professionale e intellettuale ecco perché mi fanno la guerra perché cara Barbara tu fai un discorso di logica normale di onestà intellettuale oh finalmente c'è un ci si è rivolto a Salomone adesso Salomone deciderà e vedrà chi ha ragione loro stessi dovevano supportare la mia istanza magari anche ridacchiando vedrete che adesso il tribunale darà torto a Cionci e lui passerà un guaio eccetera eccetera invece no continuano a farmi il muro di gomma continuano a spargere fake news senti in questi ultimi giorni c'è poi un clima molto di accelerazione in tutti i sensi c'è una gran fretta da tutte le parti di portare avanti i propri progetti di qualsiasi tipo questi progetti siano è tornato alla ribalta Monsignor Vigonot perché è stato convocato anche lui in pratica è caduto sotto sotto l'occhio di Sauron anche qui c'è un po' di stranezza attorno a questa improvviso ritorno di fiamma di qualcuno che fino adesso però non ha mai parlato di questa questione di Benedetto o di Bergoglio anzi ha detto noi non possiamo fare nulla cioè ha dichiarato una assoluta impotenza da parte dei cristiani a risolvere a cercare di risolvere questa questione così dubbia e così coccente per i cristiani perché avere il dubbio che quello non sia il vero Papa e che il Papa precedente fosse stato costretto a togliersi di mezzo non è una bella cosa per un cristiano infatti allora io so che molti nostri ascoltatori probabilmente avranno stima e apprezzamento di Monsignor Viganò anche io ce l'avevo tant'è che sono stato il giornalista del cosiddetto mainstream quando potevo scrivere sul mainstream che ha sostenuto a spada tratta Monsignor Viganò per i primi anni e avevo anche un carteggio con lui e mano a mano che andava avanti la mia indagine gli ho mandato centinaia di articoli però vedevo che lui ogni tanto oltre a dire delle cose assolutamente corrette su Bergoglio però tirava delle legnate anche a Papa Benedetto a è egeliano a è modernista a ci ha infilato in questo pasticcio col monstrum giuridico del Papa Emerito e gli dice guardi eccellenza che non stanno così le cose non è che lui ha voluto fare il doppio papato modernista la prego per favore insomma non c'è stato niente da fare non ha mai voluto prendere in considerazione quello che io stavo dicendo nonostante avessimo un carteggio anzi poi ha cominciato apertamente a combattere la sede impedita senza minimamente smentirla nei fatti cioè se lui avesse detto caro Cionci grazie del suo studio approfondito però la questione della sede impedita non sta in piedi per questo e quest'altro motivo quindi io seguo un'altra stata allora sarebbe stato lecito no non si è mai pronunciato sul tema e si è solo limitato a screditarlo a darmi del romanziero a Dan Brown senza mai fornire una spiegazione e poi in una conferenza surreale avuta con Edmund Massa una conferenza negli Stati Uniti online e lui disse non bisogna fare astratte speculazioni canoniche quando è lui stesso a teorizzare l'impeachment di Bergoglio per vizio di consenso che è una vera e propria speculazione astratta canonica non dobbiamo fare speculazioni canoniche e non abbiamo purtroppo il potere di dire che Bergoglio non è il Papa quando questa è una cosa falsa falsissima perché la Universi Dominici Grecis agli articoli 76 e 77 andatevelo a vedere dice che se la rinuncia del Poltefice non è a norma del canone 332 l'elezione è nulla invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito quindi Viganò esattamente come qualsiasi cristiano Cristi Fidelis poteva dire guardate Bergoglio non è il Papa perché non c'è bisogno di una dichiarazione ecclesiastica in proposito la sua rinuncia non è a norma del canone 332.2 la rinuncia di Benedetto quindi Bergoglio non è il Papa la sua elezione non è nulla invalida poteva farlo benissimo non lo fa allora io sono persuaso è una mia convinzione personale vista la condotta di Monsignor Viganò che lui sia un perfetto gatekeeper cioè un promotore del cosiddetto dissenso controllato non ci credete vedrete nei prossimi giorni lui adesso costretto a difendersi in un processo non farà mai la minima menzione della sede impedita neanche di striscio e continuerà a dire che è tutta colpa di Ratzinger che era eretico modernista che ci ha regalato il doppio papato modernista attenzione perché questa è una strategia che fa comodissimo a Bergoglio che infatti lo ha fatto chiamare a processo non dal tribunale vaticano ma dal tribunale del vicastero della fede cioè quello di Tucio Fernandez allora diciamo che questa cosa a un livello più elementare è fatta per tornare l'attenzione mediatica infatti io non posso più esprimermi come prima hanno fatto questa questa mossa per dare anche un'intimidazione ai prelati che vogliano mettersi contro Bergoglio sicuramente ma potrebbero fare una mossa intelligentissima mettono al processo Viganò dicono accidenti è vero che la rinuncia di Benedetto non era norma del canone 332 accidenti e beh sì perché lui era eretico modernista rimbambito vabbè adesso sapete come facciamo dai saniamo questa questione facciamo un conclavetto pre-2013 di cardinale di nomina pre-2013 e rileggiamo Bergoglio così lo saniamo capite? vi stanno regalando la sanazio di Bergoglio perché se è stata tutta colpa di quello sbadatone eretico modernista di Ratzinger e papà Francesco poverino non ne ha nessuna colpa capite? guardate che queste sono delle volpi sono delle volpi ma non abbastanza non abbastanza perché noi siamo riusciti a capire quello che ha fatto Papa Benedetto e quindi quello che fanno i figli delle tenebre viene fuori in modo abbastanza semplice sì sarebbe effettivamente un'ipotesi molto inquietante quella di sanare un antipapa cioè potrebbero farlo solo con un conclave ristretto o dovrebbero convocare un conclave diciamo come se come se fosse una una sede vacante no dovrebbe essere un conclave pre-2013 perché loro dicono accidenti è vero che la rinuncia di Benedetto era nulla invalida perché era eretico e modernista quindi per sanare Bergoglio dobbiamo rifare un proforma un conclave con i veri cardinali di nomina pre-2013 tutti in blocco rieleggono Bergoglio salvano le loro porpore la questione dell'attentato viene sepolta la questione della sede impedita viene sepolta non se la ricorda più nessuno e loro rimangono a galla magari confermano tutte le porpore tutti i privilegi eccetera guardate che è una mossa diabolica è una mossa ancora più schifosa dell'usurpazione del trono petrino altro che fulmine sull'accuso scupologo io glielo dico a Monsignor Biganò guardi se lei continua a impugnare la verità questo è un peccato contro lo Spirito Santo che è imperdonabile lei si sta guadagnando un biglietto per direttissima per l'inferno se continua a impugnare la verità e a mistificare insultare Papa Benedetto cercando di farlo passare per eretico e modernista io glielo dico a regola di bazzica non è che voglio fare un monito da guida teologica spirituale perché io sono solo un tecnico questa si chiama impugnazione della verità io le sto dicendo guardi che non siete impedita guardi che ci sono le prove guardi che ci sono i documenti lei neanche prende in considerazione la questione e mi scredita e mi offende e mi dà del romanziere a Adam Brown invece di ringraziarmi per il lavoro che ho fatto io poi non so Gesù come la prenderà questa sua mossa non lo so ecco un'ultima suggestione noi sappiamo che Giovanni Paolo II e Ratzinger perché anche lui è stato il suo più grande collaboratore aprirono il famoso terzo segreto di Fatima adesso sto facendo un punto una riflessione puramente di fede loro aprirono questo terzo segreto poi fu pubblicata tutta quella parte relativa al vescovo vestito di bianco che molto plausibilmente come hai scritto tu poteva servire a diluire a chiudere a invalidare il vero significato del terzo segreto quindi praticamente con l'attentato a Giovanni Paolo II il terzo segreto si è avverato quindi non c'è più niente dopo questo è possibile che invece loro abbiano interpretato il terzo segreto in maniera autentica quindi agendo mettendo in atto una serie di contromosse contro quella che è il senso vero del terzo segreto cioè la grande apostasia e che quindi tutti gli atti anche canonici voluti da Giovanni Paolo II e da Ratzinger dal suo collaboratore preparassero la strada al fatto di dover affrontare questa grande apostasia ma sì tendenzialmente sono d'accordo perché bisogna considerare che i papi vedono lungo cioè in ottica di fede sono assistiti dallo Spirito Santo allora qui è pieno di maestrini che sanno come bisogna fare il papa tutti persino delle casalinghe si si permettono di dire ah no ma questo ho sbagliato a fare così a fare colà eccetera eccetera con tutto rispetto per le casalinghe però voglio dire persone non adeguatamente qualificate per correggere il papa la cui autorità non può essere messa in discussione la prima sede non può essere giudicata bisogna seguirlo con religioso o secchio se si è cattolico quindi innanzitutto bisogna considerare che se i papi post conciliari non hanno fatto certe cose non hanno divulgato certe cose prima della certa data probabilmente perché sapevano che doveva succedere quello che è successo cioè che questa componente ignostica clandestina all'interno della chiesa cattolica avrebbe dovuto prendere il potere e manifestarsi e quindi hanno lasciato del terreno hanno perso volutamente del terreno per dare in modo a questa massoneria ecclesiastica di conquistare il potere e di manifestare le proprie intenzioni il papa Benedetto disse nel 2010 si illuderebbe chi considerasse esaurita la missione di Fatima in questo modo ha stroncato tutti quelli che si erano sforzati per anni di farlo passare come già avvenuta questa profezia con l'attentato a Giovanni Paolo II perché sapete che nel terzo segreto si parla di un papa a cui sparano però questo papa muore invece Giovanni Paolo II non è morto manco per sogno lui ha semplicemente offerto la pallottola dell'attentato alla statua della Madonna di Fatima che è stata incastanata dalla sua corona ma non è che ha detto con questo che si era verificata Fatima io ho proposto un'altra lettura che troverete in appendice al mio volume codice Ratzinger per cui tutta quella seconda parte deve essere interpretata allo specchio vedemmo un vescovo vestito di bianco ma lo vedemmo come in uno specchio quindi quella seconda parte va interpretata completamente a rovescio e allora da un punto di vista simbolico si trova una discreta coerenza per cui quello che viene ucciso non è il vero papa che viene realmente ucciso ma è un antipapa che viene delegittimato smascherato ricordiamo che l'obiettivo della massoneria ecclesiastica è quello di condurre alla grande apostasia ricordiamo che Fatima metteva in guardia da questa grande apostasia ecco perché io dico ecco perché hanno sparato a Giovanni Paolo II il 13 maggio nel giorno di Fatima no? cioè se fossero stati quelli del KGB dei servizi segreti bulgari forze ate comunista che senso aveva sparare al papa il 13 maggio e verificare così Fatima viceversa per la massoneria ecclesiastica sarebbe stato eccellente sparare al papa il 13 maggio così si sarebbe potuta derubricare Fatima come già avvenuta e loro sarebbero andati tranquillamente all'antipapato senza diciamo questa profezia tra i piedi per così dire questo è anche per ricordare a chi si definisce cattolico il fatto di concentrarsi su questi elementi di fede attorno alla questione più che il modernismo Karl Rahner e certi presunti errori di giudiantù oppure far risalire tutto il male del mondo al concilio vaticano secondo che è una cosa francamente abbastanza assurda visto che il modernismo nasce molto prima ed è una storia molto molto complessa e che andrebbe raccontata ma nella sua interezza certo questi soloni questi soloni del mondo tradizionalista che dicono che è tutta colpa del concilio hanno una visione microbica veramente della problematica perché il concilio è stato il momento in cui questo gnosticismo da sempre allignante all'interno della chiesa cattolica ha sfondato la porta ma la gnosi nella storia della chiesa viene fuori cento volte era presente fin dall'inizio era presente fra gli esseni poi viene fuori con le prime eresie prima c'era l'arianesio poi l'eresie medievali il catarismo poi in epoca contemporanea il modernismo poi la teologia della liberazione in epoca rinascimentale con luteranesimo quindi sono tutte infiorescenze di questo fiume carsico l'agnosi che mette tutto al rovescio per cui il serpente nel buono della situazione ha ragione il Cristo Lucifero cioè il serpente per gli ignotti ci coincide con Lucifero cioè un dio antagonista al creatore che mette solo queste regole asfissianti invece arriva il Cristo Lucifero che ti dice no liberati dal gioco del creatore perché tu sei dio e quindi le regole te le puoi fare tu come capendo conoscendo attraverso un percorso segreto e misterico iniziatico magico alchemico eccetera eccetera ecco perché Bergoglio dice Gesù si è fatto serpente si è fatto diavolo perché il serpente il diavolo è il Cristo secondo questa visione abberrante abberrante della dell'agnosi dell'agnosticismo per fortuna vedo che in questo periodo ci si sta un po' svegliando su questo problema dell'agnosi ci sono anche dei dibattiti interessanti che troverete su YouTube è una visione completamente alternativa è quella chiesa del diavolo di cui parlava Ticonio teologo amatissimo da Papa Benedetto già da Ratzinger come cardinale che dice che appunto che nella chiesa di Cristo è nascosta la chiesa del diavolo e qual è questa chiesa del diavolo? è la chiesa agnostica che si trasmette di vescovo in vescovo questi vescovi sono i successori di Giuda mi fa ridere la teoria di Don Curzio un altro di questi soloni del tradizionalismo che dice beh siccome Bergoglio chiaramente eretico eccetera eccetera però siccome fra gli apostoli c'era un diavolo e il Papa è il successore degli apostoli allora possiamo avere il Papa diavolo una teoria una teoria aberrante da tornare a fare la prima comunione perché tutti sanno che il Papa non è il successore di un apostolo qualsiasi non è il successore di Giuda ma è l'apostolo successore di San Pietro è il successore dell'apostolo Pietro quindi è però vero è però vero che ci sono dei vescovi che sono successori di Giuda questo sì sono i vescovi ignottici che oggi hanno preso il potere e infatti al posto del Papa c'è un vescovo vestito di bianco un vescovo ignottico tutto torna in modo geometrico tra l'altro vi dirò presto perché si annuncia per il 16 luglio la Cassazione definitiva della messa in latino che verrà secondo alcune indiscrezioni verrà bandita definitivamente proprio il 16 luglio ora ma non vi sembra strano questo accanimento così feroce contro la messa in latino ma che male va fatto tra l'altro la Fraternità San Pio X alla quale è ancora permesso fare la messa in latino è amica di Bergoglio lo riconosce Bergoglio se l'è comprati con un casco di banane ha dato loro la possibilità di fare i matrimoni i funerali la messa e quindi loro credono che Bergoglio sia veramente il padre e adesso come faranno? e adesso come faranno? e beh gli sta così imparano quindi quindi adesso per concludere è stata depositata l'istanza aspettiamo la risposta del tribunale che dovrà venire in qualsiasi modo o positivo o negativo dovrà arrivare e poi che cosa potrebbe cosa potremmo aspettarci come contromosse qualcuno che magari salta fuori e dice ah ma sì ma l'avevo detto all'interno proprio del Vaticano qualcuno che venga fuori ma guarda guarda se si va a processo è chiaro che esce uno escono tutti cioè ci sarà proprio la la rottura della diga del Vajont perché questa è una una cosa talmente risaputa lo sanno perfino i custodi in Vaticano perfino i custodi dei musei una volta sono andato a Castel Gandolfo così facendo il Vago un po' per divertimento un po' per indagine chiedo al custode lì della sala e dico ma senta ma lei ha mai sentito questa cosa il codice Ratzing e la sede impedita e il custode mi fa ah beh sì certo Papa Benedetto è la sede impedita è ovvio lo sanno tutti capito è roba di è un fatto comune un fatto notissimo lo sanno tutti infatti sono scandalizzati perché ci sono certi vaticanisti che dovrebbero avere un sacco di gole profonde in Vaticano che io non ho perché io non ho io vi basso su documenti pubblici non ho spie quinte colonne eccetera e questi invece che sono ammanicatissimi sicuramente gliel'avranno detto guardate che Cionci ha ragione guardate che Benedetto era in sedentità l'avranno saputo sicuramente ma tutti concorrono nel tenere occultata la verità e mal gliene incoglierà mal gliene incoglierà ecco che lo sanno tutti lo sanno anche anche il personale delle ferrovie lo sa che c'è la questione della sede impedita sì un episodio divertente grazie per avermelo ricordato perché dovete sapere cari amici che qualche giorno fa stavamo tornando in treno con Barbara Tampieri da Savigliano dove abbiamo fatto una conferenza insieme a Dominutella da altri Diego Fusaro eccetera il treno però era in ritardo il treno regionale mi doveva portare a Torino aveva un quarto d'ora di ritardo pericolosissimo io poi la sera stessa dovevo essere a Trieste per un'altra conferenza quindi mi sarebbe scombinato tutto il piano treni sarebbe arrivato in ritardissimo a Trieste sarebbe stata una tragedia allora mi rivolgo al capotreno insomma al controllore che era una signora parlando un po' con questa signora scopro che lei conosceva perfettamente la questione della sede impedita codice Ratzinger conosceva tutto e infatti poi insomma mi ha dato una mano si è attivata sono riusciti a recuperare questi devo dire però che questo intervento lo aveva fatto prima che io le parlasse di codice Ratzinger quindi non è stata una forma di favoritismo nei miei confronti ecco questo lo dico a tutela della signora quindi ricordo che le conferenze che tieni in giro per l'Italia continuano il 29 a Perugia e il 30 a Roma poi stiamo a vedere quali sono gli sviluppi di questa istanza che ripeto dovrebbe essere accolta con favore da tutti coloro che francamente non ce la fanno più di vivere in questo stato di incertezza che non fa bene né a chiunque viva in Italia né tantomeno a chi è credente e quindi ha bisogno di certezze sì grazie Barbara ricordo appunto il 29 sabato sarò alle 4 alla Sala Sant'Anna prenotazione consigliata crperugia chiocciolalibero.it domenica 30 invece sarò a Roma per una conferenza di terzo livello cioè per parlare delle cose più aggiornate dell'attentato a Papa Benedetto dell'istanza di Monsignor Viganò e anche per parlare di questo blocco della messa in latino alle ore 16 all'hotel St. John via Matteo Boiardo 30 scrivete per la prenotazione a petizione cr chiocciolalibero.it naturalmente sempre ingresso offerta libera ecco quindi ci riaggiorneremo presto quando ci saranno gli sviluppi di questa istanza la risposta del tribunale Vaticano io ringrazio ringrazio Andrea Cionci per questo aggiornamento vi ho fatto un terzo livello che hai regalato all'Orizzonte degli Eventi e quindi ci sentiamo presto grazie Barbara grazie un caro saluto a tutti gli amici di Orizzonte per gli Eventi dico a chi mi ascolta iscrivetevi al canale di Barbara Tampieri se non l'avete già fatto se volete iscrivetevi anche al mio canale Andrea Cionci Codice Ratzinger per tutti gli aggiornamenti certamente grazie arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti